In questo caso trovo comodo questo Io... ma dai oh Non riesco a tenere le cose in mano ma com'è Ma che cos'è? Allora Allora Che sta succedendo? Come coprire una dammi di p***a Quando si fanno torte in casa a volte c'è sempre l'imprevisto La persona che suona al campanello, una telefonata improvvisa Bambini che si mettono in pericolo richiedono la tua attenzione Ovvio che in un mondo ideale non devi essere disturbato ma a volte può succedere no? Quindi copri la pasta di zucchero in modo che non prenda aria e non si raffreddi o non si indurisca E cerca di tornare il più velocemente possibile per stenderla sulla torta No no, non ho tolto Non ho tolto Inizio Ma a volte ci si può perdere in sciocchezze come queste? Perdere dieci minuti così? Sì La risposta è sì Si può Ecco togliamo la plastichina Perfetto Parto dal dietro Perfetto Perfetto